Questa è la pasta fredda che non sapevi di volere Pipette con melanzane, filetti di sgombro piccanti e rucola In acqua bollore cuociamo la pasta scolandole e bloccandogli la cottura subito dopo aggiungendo un cucchiaino di olio per farci che non si attacchi Tagliamo in piccoli quadratini una melanzana e in una padella calda con un filo d'olio andiamo a cuocerla facendola diventare dorata e ben appassita Facciamo un trito molto sottile di menta e quando le nostre melanzane saranno pronte e raffreddate aggiungiamo la pasta, aggiungiamo la rucola, il trito di menta, scorza di limone e i filetti di sgombro all'olio di oliva piccante Mescoliamo per bene il tutto unendo e uniformando i nostri sapori e si impiatta Decoriamo con qualche filo di peperoncino, qualche falda di sgombro, altra scorza di limone e il pranzo è servito Provatela e sarà amore al primo assaggio Buon appetito!